Pino Coutellè, tecnico del San Ferdinando Calcio per Inter, Forza e Città di Madre. Allora Pino, tutto complimenti per la vittoria, una vittoria insomma molto equilibrata, avete anche rischiato qualche gioco di prendere il pareggio, ma anche alla fine una traversa, qualche azione, comunque ho visto belle ripartenze della tua squadra, insomma, riuscivate sempre a trovare, diciamo, a mettere in difficoltà l'avversaria, però alla fine diciamo che è una vittoria che fa calzifica e certamente il lancio del San Ferdinando, per me è questa, secondo me dovrebbe essere un vittoria, potrebbe essere un compareggio, però alla fine ha vinto chi ha saputo meravigliare. Tu sei stato d'accordo con la mia analisi, insomma? Sono d'accordo in parte, io penso che se guardiamo la partita, l'intera partita, noi abbiamo avuto, a parte l'occasione, abbiamo avuto una qualità di gioco superiore, quindi siccome quello conta, anche lei l'ha detto, nelle ripartenze, nel sprecare una palla, quindi una squadra che è venuta a giocarsela e alla fine penso abbia vinto meritatamente. Ci voleva perché noi abbiamo perso dei punti senza meritarlo, senza meritarlo abbiamo perso due partiti in casa, con squadre, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, ma al di sotto, al di sotto tecnicamente, della mia squadra. E quindi sono contento perché ci voleva, speriamo che questo ci sia la svolta, i nostri obiettivi erano altri all'inizio del campionato. Mi auguro che questa partita ci dia convenzione, ci dia autostima per affrontare le altre partite e fare un campionato. Oggi avevate anche diversi assenti con Città, che era importante, noi avevamo Rizzo che è entrato a 20 minuti alla fine, che per noi è un punto di riferimento, un centrocampista di qualità, di forza, però abbiamo affrontato la squadra con lo spirito giusto e fortunatamente poi è andata bene, anche se poi abbiamo sprecato il gol della Vittoria e quando tu sprechi, poi alla fine rischi di compromettere una partita che onestamente è stata strameritata. Senti, come ti hai designato questo arbitraggio? A me è piaciuto, ma indipendentemente dal risultato, perché di sotto ti dice che chi vince... Però ho visto un arbitro con grande personalità. Noi abbiamo onestamente incontrato degli arbitraggi ultimamente che ci hanno penalizzato, che hanno condizionato proprio le partite. Io capisco, gli arbitri possono sbagliare, ci mancherebbe altro, sono umani, però a volte si esagera. Noi abbiamo perso una partita contro la Nuova Valle con un gol regolarissimo 0-0, con una squadra che si è chiusa completamente dietro, chiudendo tutti gli spazi. Noi avevamo avuto la fortuna di segnare un gol regolarissimo annullato e poi diventa dura. Anche domenica stessa. Domenica stessa abbiamo giocato contro il Bivongi. Contro il Bivongi, un calcio di rigore, ma detto di tutti, anche dagli amici di Bivongi, dai giocatori di Bivongi, della panchina, un rigore nettissimo che era impossibile non darlo. Eppure, evidentemente, l'arbitro ha visto diversamente. Io assolutamente non credo alla mala fede. Però ci sono errori e errori clamorosi che poi ti pregiudicano una partita. Senta una cosa, alla luce di questa vettaglia è la svolta. No, io mi auguro che sia la svolta. Dico, ma riguardando qualche altro giocatore, dico, pensi che questo San Ferdinando possa giocarselo con tutti? A me è questo dico, ecco. Giocarselo con tutti sicuramente. Ma noi una squadra che ci ha messo sotto fino adesso non c'è stata. Noi abbiamo fatto un precampionato e una Coppa Calabria contro il Novageglese, che è la squadra regina della prima categoria, che andrà a vincere il campionato, secondo me, a Mambas. E l'abbiamo messa in difficoltà. E forse avremmo meritato noi di passare il turno. Abbiamo giocato col Badolato e abbiamo fatto una grande partita. Poi c'è stata un'involuzione, stranamente, giocando in casa con la Nuova Valle. Da là, onestamente, forse è subentrato un po' di paura. Quindi non siamo riusciti più a giocare in maniera sciolta, come siamo capaci di fare. Ma c'è una squadra che riesce a ripartire palla a terra, cercando di alzare i ritmi. E onestamente sul piano del gioco, penso, ce la possiamo giocare con tutti. E sono convinto che, con il recupero di qualche elemento importante, possiamo dire la nostra. Poi, dove si arriverà, sarà il campo a stabilirlo. Però io sono convinto di poter far bene con questa squadra. Va bene. Grazie Pino, da tua gentilezza. Grazie a lei. E il buon gruppo che lo siamo a partite. Ciao. Grazie Pellupo, grazie. Grazie.